a partito la manchina all'ultimo incontro Kudrupi va via agli avversari il numero 11 tocca per Pomella splendido il velo Campanella la prima splendida parata dell'incontro la trova Bellucci al secondo minuto di gioco ha molto spazio per Gallupare Buccioni un no look in direzione di Pomella che la restituisce ancora Buccioni Buccioni un intervento che può valere se non la gara quantomeno il primo tempo da parte di Giorgio Bellucci il centro che reclama il pallone lo riceve troppo lungo diventa un pallone per Buccioni aiutato dal rimpallo Buccioni non ce fa lo riesce a pescare Pomella che tocca per Campanella torna Buccioni di gran carriere recuperare il pallone tra la disperazione del numero 89 Kudrupi uno dei migliori dei suoi invece il numero 11 che ha un ruolo da playmaker è quello che si è visto forse di più e questa volta impegna Bellucci per ancora uno splendido intervento ventesimo minuto ancora pericoloso il peperino